Presidente Ivano, purtroppo abbiamo avuto la cattiva notizia che la squadra non è stata ripescata in Serie D. Purtroppo sì, ci dispiace perché la nostra intenzione era partecipare al campionato di Serie D, ma la federazione ha fatto delle scelte diverse e pertanto non siamo riusciti a avere questa categoria. Comunque mi sembra che state partendo bene, vedo che oggi c'è una bella partita in famiglia. Abbiamo iniziato dal primo agosto a fare la preparazione, oggi è la prima sgambatura a tutti in famiglia. Sabato prossimo abbiamo un amichevole con una squadra al Porto Hero, qui al Ballarini, cominciamo adesso a... Vengono qui a Chioggia? Vengono a Chioggia, sì. Quindi la prossima partita qui al Ballarini? Il Ballarini è sabato prossimo. Il sabato prossimo. Vabbè, allora bisogna che non manchiamo allora. Sicuramente sì. Grazie. Grazie, saluto ragazzi.